Si lavora sotto al sole di una domenica mattina di fine luglio che segna l'inizio della raccolta del pomodoro in provincia di Foggia. Si comincia con il tondo mentre per il lungo la varietà per eccellenza da industria coltivata in Capitanata bisogna attendere ancora una decina di giorni. Il gran caldo delle ultime settimane sta creando problemi al settore agricolo. Le bacche in molti casi sono seccate dal sole, denunciano le organizzazioni di categoria. Nei campi di Amendola tra Foggia e Manfredonia si lavora lacrimente, si inizia alle 6 e si prosegue almeno fino alle 13. Questi braccianti africani sono tutti in regola. Da quanto tempo qui in Italia? 14 anni. Raccogli sempre pomodoro? La pomodoro. Ti trovi bene qui a lavorare? Sì, io lo trovo bene. È tutto bene? Tutto bene. Tutto bene. Resta il problema contributivo. Pur rappresentando quasi la metà della forza lavoro impegnata in Capitanata, appena un quarto dei braccianti stranieri riceve le indennità di disoccupazione a fronte dei tre quarti di quelli italiani. I lavoratori agricoli censiti negli elenchi anagrafici del Foggiano sono 48.000. Di questi gli immigrati sono circa 22.000. Secondo la Flai CGL molti braccianti dell'Est preferiscono intascare qualche euro in più rinunciando ai contributi. Magari non chiedono l'applicazione delle norme contrattuali e rinunciano all'accredito contributivo delle giornate perché insomma dieci giorni nell'arco della campagna estiva del pomodoro e poi della campagna degli ortaggi durante l'inverno non si capisce come mai che abbiano solo 8, 9, 10 giornate.